A Riccioli il divertimento è sinonimo di radio DJ, soprattutto quando si parla della notte rosa. Il capodanno dell'estate verrà trainato nella Perla Verde da uno speciale DJ che chiama la città balneare in diretta live radiofonica dall'arena affacciata sul mare in Piazzale Roma con protagonisti Linus, Nicola Savino e Rudy Zerbi. Un rito, sono 30 anni che veniamo qui tutte le stati e ogni volta cerchiamo di organizzare qualcosa di diverso. Vengo io in persona a fare la radio in Piazzale Roma, che è una cosa che mi diverte molto e che non faccio da tantissimo tempo. Quindi saremo io e Nicola Savino il venerdì 5 dalle 18 alle 20 in diretta con il nostro track dipinto di rosa come la Pantera Rosa. Il claim sarà Pink Like a DJ e una volta che noi avremo finito alle 8 fino a mezzanotte avremo una serie di DJ che faranno dei DJ set, animazione per tenere la piazza viva. Mai tra Riccione e Radio DJ è un'amicizia che ci lega più che semplicemente un rapporto contrattuale. È un vivere insieme l'esperienza Riccione, è un vivere insieme un palinsesto e tante belle opportunità. Ed è bello che ogni anno si aggiunga qualcosa di nuovo, per cui sarà un'estate molto speciale, soprattutto perché oltre agli artisti grandi e importanti che ci torneranno a trovare, quest'anno ci concentreremo anche molto sui giovani e quindi sarei contento che magari qualche grande talento nascesse proprio qua a Riccione. Abbiamo scelto di accendere insieme a Radio DJ l'estate di Riccione a partire dalla notte rosa, ha commentato l'assessore al turismo Stefano Caldari una festa che comincia il 5 luglio, che durerà tutta l'estate tra concerti, spettacoli e dirette radio. Un anno speciale perché ad inaugurare tutto questo ci saranno i due principi della radio, Linus e Nicola, per uno straordinario DJ Chiamitalia, che per l'occasione si trasforma anche in Riccione Chiamitalia.